Ciao a tutti ragazzi, ciao, allora oggi abbiamo un paio di argomenti di discussione, sono anche argomenti che mi stimolano, devo dire la verità, perché almeno cerchiamo di parlare un po' di cose diverse rispetto alle solite due o tre legate al campionato, legate al momento della Juventus, queste è impossibile non citarle, è impossibile, anche perché poi ieri sera la Fiorentina ha perso per 1-0 al 95esimo con un rigore segnato da Ciro Immobile, Fiorentina aveva perso con l'Empoli, Fiorentina ha perso con la Lazio, domenica ce l'abbiamo noi a Firenze, quindi saranno arrabbiati insieme al fatto che è sempre una partita difficile e complicata e che per loro è la partita dell'anno quella che se vince salvi la stagione e quindi li troviamo forse nel momento peggiore possibile perché avranno qualcosa da voler dimostrare, quindi non lo so, poi ne parleremo, avremo tempo di discuterne, è solo martedì, però poi la settimana alla fine anche senza Coppa e passa abbastanza velocemente, non so se è anche per voi la stessa cosa, questa è un po' la mia opinione, però oggi parliamo di due calciatori di proprietà della Juventus, che non giocano nella Juventus, o almeno uno ci gioca, l'altro è andato in prestito, ma quello che ci gioca non ci gioca. Il primo è Nicolo Fagioli, Nicolo Fagioli che è squalificato fino a maggio barra giugno 2024, quindi non dovremo avere a disposizione per il resto del campionato anche se poi magari da calendario una, due partite, forse l'ultima potrebbe pure farla, una sorta di passerella finale di stagione, poi magari la Juve finisce nelle primissime posizioni, potrà festeggiare qualcosa di importante insieme ai suoi compagni, io lo sapete bene, ad oggi ci voglio sperare, ma non ci credo, credo che la Juventus non vincerà lo scudetto in questa stagione, ma sarebbe meraviglioso poi arrivare ad essere smentiti sul finale di questa Serie A. Nicolo Fagioli che in questo momento appunto è squalificato, ma la Juventus sta progettando il rinnovo di Fagioli fino al 30 giugno 2028, quindi due anni in più di contratto per Nicolo Fagioli che andrebbe pure a ritoccare l'ingaggio al rialzo. Allora, ho letto già un po' di divisione sui social per questa cosa, io entro in punta di fioretto, ho un'opinione chiara e cioè che è un bel gesto della Juventus nei confronti di Nicolo Fagioli, per il momento che sta passando il ragazzo e per una sorta di iniezione di fiducia della Juventus nei confronti del suo tesserato. È un po' come dire, tranquillo Nicolo affronta questo percorso di recupero, noi siamo qui ad aspettarti, crediamo in te e anzi, invece che dirtelo solo a parole, te lo dimostriamo, metti una firma qua e rinnoverai con noi, rimarrai con noi. Io credo che Fagioli sia un tesoro, un piccolo tesoro per la Juventus dal punto di vista sportivo e che quindi la Juventus voglia dimostrare questa vicinanza. In un momento in cui la componente psicologica è importantissima per il recupero pieno del ragazzo, che sta affrontando davvero il peggior momento non della sua carriera, della sua vita, perché poi quando abbiamo parlato della confessione di Fagioli alla procura di Torino eravamo andati a toccare anche dei tasti abbastanza pesanti che escono da quello che deve essere dall'analisi sportiva e calcistica, tutta questa storia esce dall'analisi sportiva e calcistica, quindi io mi baso soltanto sui criteri di campo e la volontà della Juventus di avere Fagioli per due anni in più secondo me è giusta, è quello che deve fare la Juve in questo momento, valorizzare quello che già possiede. Abbiamo un giocatore come Fagioli, ha dimostrato di poter essere un giocatore della prima squadra importante, addirittura titolare per la Juve? Voglio che rimanga. La Juventus sta facendo questa cosa un po' con tutti i giocatori. Gatti ha già rinnovato fino al 2028, si sta parlando con Rabiot, soprattutto si sta parlando con Chiesa perché è in scadenza al 30 giugno 2025, poi Rabiot scade nel 2024, ha firmato un rinnovo annuale e quindi si sta cercando di capire qual è la posizione di Rabiot, se può essere interessato a rimanere alla Juve anche per più anni, magari andando a ritoccare l'ingaggio, perché francamente l'ingaggio di Rabiot è troppo alto per i parametri degli standard della nuova Juventus che sta nascendo, ma questa è la strada che deve percorrere appunto la nuova Juve, perché non c'è più spazio per le spese folli come magari c'è stato qualche anno fa, ma mica solo per la Juve, per la Serie A in generale, perché già ai tempi forse era la Juve l'unica che spendeva delle cifre particolarmente elevate, dando un'occhiata ai bilanci dell'ultima campagna acquisti estiva della Serie A. Quest'estate eravamo andati a vedere che poche squadre italiane avevano comprato da altre squadre italiane, che il trasferimento più importante dal punto di vista economico interno alla Serie A era stato frattesi dal Sassuolo all'Inter, ma con una formula innovativa, creativa, che permetteva all'Inter di ammortizzare la spesa totale con l'inserimento di alcune contropartite come i mulattieri e la volontà di pagare poi in un secondo momento, quindi un prestito con pagamento nel futuro rispetto al momento dell'acquisto di frattesi, che sono formule che abbiamo già visto mille volte anche con la stessa Juventus, dato che quest'estate abbiamo riscattato sia Ken che Locatelli per delle cifre anche abbastanza elevate. E probabilmente sono cifre che difficilmente rivedremo in Salsa Juve nell'immediato futuro, anche se sono acquisti che risalgono a soltanto due estati fa, quindi all'arrivo di Massimiliano Allegra a Juventus nella sua seconda avventura. Questa è un po' la nuova valorizzazione della Juventus. E dato che questo discorso su Fagioli, la valorizzazione, le spese interne, si estende poi anche a quello che deve essere il futuro della Juventus, l'altro giorno parlavamo dell'addio di Tognossi, che lascia la Juventus dopo sei anni di operato, arriva in Spagna, va al Granada, diventa il responsabile dell'area sport del Granada, quindi una sorta di promozione per quella che invece era la sua posizione la Juventus. Io ho letto tante persone che mi hanno scritto nei commenti, ma come? Adesso si parla di Tognossi? Prima se ne parlava poco? Che cosa succede? Perché se ne parla solo ora che va via? Beh, signori, il lavoro di Tognossi è un lavoro che si vede sul lungo, è un lavoro che per forza di cose non può essere immediato, non è, non lo so, un calciatore che lo acquisti e in quella stagione, bam, ti fa la roba. Non è un allenatore che lo tesseri e deve gestirti la squadra, non è una roba di questo tipo. Il talent scout, tra l'altro il capo dell'area scouting della Juventus, è un mestiere importante, a maggior ragione in questo momento qua. Perché dico questo? Perché basta dare un'occhiata alla classifica dei cannonieri della Serie A e possiamo osservare una sorpresa. Lautaro Martinez, primo con 11 reti, una partenza folle del Toro ed è lì, primo. Al secondo posto Victor Rosimène, con ben 5 reti di distanza, ne assegnate 6. Insieme a Giroud sono i due bomber che condividono il secondo posto in classifica. Poi arrivano quelli a 5, Berardi, giocatore che conosciamo benissimo, Politano, Nico Gonzalez, Colpani, Lukaku e Mattias Sule. Per quello il lavoro di Tognozzi non lo puoi valutare oggi, ma è preziosissimo. Anzi, lo puoi valutare oggi come positivo perché i nomi ci sono stati. Ma il lavoro di Tognozzi andrai a toccarlo con mano lato Juventus tra qualche anno. Non è un caso, anzi forse sì, ma mi piace pensare di no, che Berardi e Sule sono entrambi a quota 5 gol in questa Serie A. Molto bella come cosa, no? Abbastanza toccante. Perché? Perché la Juventus è stata lì, lì, tutta estate, per cercare di tesserare proprio Domenico Berardi. Berardi e Lukaku erano i due nomi della Juventus come possibilità per andare a prendere dei giocatori già pronti per fare la differenza all'interno di questa stagione. Nessuno di due è arrivato e alla fine Berardi è rimasto a Sassuolo. Lukaku è andato alla Roma. Abbiamo visto poche ore fa il suo ritorno da avversario, da nemico, nemico forse è la parola più adeguata, a San Siro contro l'Inter. C'è tutta una storia da raccontare, ma non è questo né il momento né il luogo adatto a farlo. Berardi, il Sassuolo, se possibile, l'ha pompato ancora di più. Leggevo proprio questa mattina che il Sassuolo, se questa estate ne chiedeva 30, ora ne chiede 35. Io l'ho dato l'operato di Giuntoli quest'estate, perché se non possiamo toccare con mano quello che è stata la gestione di Giuntoli per gli acquisti, perché la Juventus ha acquistato soltanto UEA e UEA è arrivato prima dell'ufficialità di Giuntoli, poi ci sono state alcune mosse di Giuntoli, perché sono decisioni anche in non acquisti che sono passate in secondo piano, come quella di Berardi. Perché dico che sono stato contento di questa cosa? Perché la linea di Giuntoli era stata chiara. Sassuolo, siamo interessati a Berardi, vorremmo tesserarlo, so che siete disposti a cederlo, la nostra offerta è di 20 milioni. Butto lì, una cifra a caso, loro si sono spinti fino a una determinata cifra che doveva essere di 20 milioni circa. Il Sassuolo gli ha risposto, grazie, ma per 20 milioni vogliamo anche il cartellino di healing, sulle o quello che è, se no sono 30 cash. Giuntoli gli ha detto, guarda, c'è la volontà del ragazzo che vorrebbe venire a giocare alla Juventus, quella cifra troppo elevata, noi fermiamo su questa offerta. Il Sassuolo gli ha ribadito il fatto che no, prenderlo a sciare. Per noi questa 30 ve lo diamo a 30. Grazie mille, gentilissimi, al prossimo giro. Berardi è un giocatore che avrebbe fatto molto utile alla Juventus, molto utile, anche se non in questo contesto di sistema tattico, perché nel 3-5-2 Berardi è un pesce fuor d'acqua, se lo mette a fare la seconda punta perde tanto del suo potenziale, tantissimo. Però è sicuramente un profilo di giocatore che a questa Juventus manca. E qui entra in gioco Sule, che sta veramente trascinando il Frosinone, anche se nell'ultima partita comunque con la doppietta di Sule è finita in un modo folle, veramente folle. Quando stavo seguendo la partita vedevo che vinceva 2-0 Frisone, proprio doppietta di Sule, e poi mi sono ritrovato a guardare e ho detto come 4-3 per il Cagliari e gli ultimi due minuti due gol. Anche questa è un'altra storia che non racconteremo adesso. Però Sule sicuramente sta facendo il suo. Sono stupito? Beh sì, la risposta è sì, perché mi aspettavo sicuramente che il Frosinone potesse fare bene, perché il Frosinone mi aveva sorpreso già dalla prima partita col Napoli. La prima partita di campionato quest'anno è stata proprio il Napoli contro il Frosinone e io avevo visto un Frosinone dare decisamente più di quello che poteva. Poi è bello questo parallelismo, perché il Frosinone è allenato da Di Francesco e Di Francesco è l'allenatore che ha formato, svezzato e lanciato poi Berardi. Quindi sicuramente è un allenatore che sa come lavorare con quei profili, ha maggior ragione in questo momento in cui Messi vince l'ottavo pallone d'oro della sua carriera, giusto o non giusto, meritocratico non meritocratico. Io credo che il pallone d'oro abbia perso di senso meritocratico già da anni, quindi credo che ogni discussione, anzi non volevo neanche parlarne, mi è venuto in mente adesso il parallelismo, però un argentino che gioca sulla destra, mancino, tecnico, quindi che sulle, guarda, gli auguro di fare anche un decimo della carriera di Messi perché sarebbe già qualcosa di mostruoso, però da sulle non mi aspettavo tutto ciò, perché vi ho sempre detto che di speciale veramente non riuscivo a vederci nulla che toccasse il pallone in un certo modo, che fosse tecnicamente eccelso, che avesse uno stile tutto suo di quelli che ti fa veramente innamorare e riconciliare con il calcio, beh, questo senza ombra di dubbio. Però vedo dei giocatori un po' più pronti, per dire, vi faccio un esempio. L'anno scorso abbiamo avuto sia sulle che healing all'interno della rosa. L'impatto che mi dava healing era maggiore rispetto all'impatto che mi dava sulle. Poi ruoli diversi, momenti diversi, scelte diverse, però quando poi vedevo sulle l'anno scorso schierato come quinto di centrocampo dicevo no, assolutamente no, ma già healing, schierato come quinto di centrocampo, per me non ci sta. Per healing è un giocatore che in quella posizione lì, a me fa un po' fatica. Sule ne fa decisamente di più, perché è un giocatore molto più tecnico, un giocatore molto più offensivo, quindi non poteva giocare in quella posizione lì e il meglio di sé l'ha fatto vedere quando viene schierato comunque seconda punta, ma vale il discorso che abbiamo fatto per Berardi. Determinati giocatori in quella posizione sono un po' castrati, come secondo me lo è pure Federico Chiesa. Però io mi immagino in prospettiva una Juventus che possa giocare con i tre davanti e ritrovarsi in rosa, magari Chiesa, UEA che già ce l'hai, lesione di basso grado torna dopo la sosta e questo è un piccolo problemino per la Juventus, per usare un eufemismo, perché iniziamo a essere corti, dato che McKennie dovrà traslocare a destra probabilmente, o Cambiaso schierato a piede invertito, di questo ne parleremo, però chiesa UEA ti rientra su l'E e poi magari devi andarne a fare un altro acquisto, oppure no, perché comunque hai healing. Che è un po' il discorso che facevo alla fine del primo anno di Allegri, quando iniziavano ad esserci le voci su di Maria. Io dicevo, se prendiamo di Maria per due anni, per me è super logico, è super coerente, perché se l'idea è quella di passare al 433, che poi non ci siamo mai arrivati per mille motivi, non stiamo qui a ripercorrerli, però tu prendi Di Maria, a proposito di argentini i mancini che partano da destra con quel tocco lì, a proposito no, in sostituzione di Dybala, e parlare di argentini i mancini e bla bla bla. E se tu metti Di Maria a titolare, con Chiesa dall'altra parte, significa che il backup perfetto e naturale di Di Maria è Sule. E secondo me l'anno scorso è stata una grande occasione persa per la Juventus di andare a valorizzare Sule come vero e proprio vice Di Maria. Perché quando non giocava Di Maria, e a parte che giocavano col 3-5-2 come quest'anno, non entrava Sule al suo posto. Anzi, come dicevo prima, Sule l'abbiamo visto a inizio anno, nel 2023, a fare delle diagonali difensive, andare a difendere come quinto, che non era assolutamente la sua posizione, perché non riesce a far valorizzare il giocatore in quel modo. Quindi è assolutamente meraviglioso vedere la classifica Cannonieri e vedere Sule aver segnato lo stesso numero di gol di Lukaku, di Nico Gonzalez, di Politano, di Berardi, quasi come Oshzimene, quasi come Giroud, più di Pulisic, più di Scamacca, più di Turam, più di Chiesa e Blaovic. Ha segnato solo più Sule singolarmente di ogni singolo giocatore della Juve. Già questo è incredibile. Poi entra in gioco il fatto che la maglia della Juventus e la maglia del Frosinone non ha lo stesso peso specifico, e quindi è più facile fare bene a Frosinone senza pressioni, piuttosto che alla Juve con le pressioni. Ma questo vale anche per Berardi, che è un giocatore che andrà a compiere 30 anni nella prossima annata, quindi nel 2024, e che non è mai uscito da Reggio Emilia, ha sempre giocato col Sassuolo, magari delle partite europee col Sassuolo perché si era qualificato, forse già con Di Francesco, poi con De Zervi, insomma tutta questa trafila di allenatori, e poi ha giocato qualche partita ad alto livello con la nazionale italiana. Poi però si è vista la differenza quando il pallone iniziava a scottare, e allora gli esce Berardi, entra a Chiesa, cambia l'Italia e si vince l'europeo. Quindi secondo me il ragionamento di prendo Berardi perché l'usato sicuro a 35 milioni è sbagliato, è sbagliatissimo. Se dico prendo Berardi perché diventa un'occasione, lo pago il prezzo che voglio io, a 20, e intanto lo alterno anche con Sule, lo posso già capire di più. Poi io, ve lo dico proprio sinceramente, immaginarmi davvero una Juve che mi impoglia andare a giocare con il 4-3-3 o il 4-2-3-1 con Chiesa, Ealing, UEA e Sule per la prossima stagione, a me stimola. A me stimola. Spesi, 0 euro. Perché sono già tuoi e perché attraverso un percorso di valorizzazione. Ma ve ne dico un'altra. Cioè piuttosto che vedere Ealing così in questo momento, che non gioca mai, perché Ealing entra oggi solo quando la Juve è svantaggio, perché? Perché ti crea quel caos positivo, no? E diventa quel giocatore un po' come era Douglas Costa ai tempi. Infatti io, anche qua, dare a prendere Douglas Costa per sei mesi quando Ealing che fa la muffa in panchina, non lo capisco, non lo comprendo ed è fuori secondo me dal principio di come deve lavorare una squadra moderna e come deve essere oggi il calcio in Italia perché ci sono dei limiti, ma questa è un'altra storia. Io piuttosto che avere lì Ealing, a far la muffa, a far la polvere, a non far minuti, questo inverno lo do in prestito. Lo do in prestito. Però non ditemi allora metto dentro Douglas Costa perché mi serve un giocatore che ce l'hai già, Ealing. Ora cerchiamo di investire perché anche l'anno scorso c'era sulle... Eppure dovevamo cercare Berardi. Cioè sono cose secondo me che dobbiamo andare avanti, dobbiamo guardare al futuro, proiettarci al futuro e necessari a capire che il lavoro di Tognossi è stato un lavoro importante. Oggi c'è Ildis, no? Come quel giocatore che Allegri vede come il ragazzo già pronto. Meraviglioso, fantastico, sono contentissimo che sia così. Mi piacerebbe vederlo titolare nelle partite come con il derby in cui c'era un chiesa Vlaovic fuori, è giocato con Miretti e Ken. Gioca con Ken e Ildis, gioca con Milik e Ildis. Perché sono quelle cose lì poi che formano i calciatori, no? Perché secondo me il punto più positivo dell'Allegri Bis è stato aver lanciato tanti, tanti di questi ragazzi. Ildis, Uisen, Ealing, Sule, Barrenecea. Quanti ne abbiamo visti? Ne abbiamo visti Miretti, Fagioli. Ne abbiamo visti veramente tantissimi. Ne abbiamo visti tantissimi. Però un conto è lanciarlo, un conto è valorizzarlo, avere fiducia e renderlo un titolare, perché gli unici due su cui possiamo fare questo ragionamento, anzi uno che è i Fagioli, in questo momento è squalificato, e ora lo sta diventando Miretti, di conseguenza, che secondo me l'altro giorno ha fatto un'ottima partita quando è subentrato contro l'Elas Verona. Quindi questa secondo me è la strada. Questa è la strada, è un peccato aver perso Tognossi proprio per queste motivazioni qui, ma la Juve ha del potenziale. E sempre andare a guardare in casa degli altri pensando che ci sia l'erba più verde dal vicino secondo me è sbagliato, perché noi abbiamo tanto talento, tantissimo talento, e questo talento deve essere valorizzato. Se non c'è la possibilità di farlo dentro l'eventus prima squadra è giustissimo che vadano a giocare in prestito come sta facendo sulle... Però se poi devo far uscire dei talenti per far entrare giocatori come Bernardeschi o Douglas Costa per coprire questi sei mesi, o andare a comprare Berardi a 30-35 milioni, perdonatemi non ci sto, che non sto dicendo che Berardi sia scarso. No, Berardi è molto forte, ma quell'investimento non lo farei. Stessa cosa per Lukaku, giocatore molto forte, ma quell'investimento per cedere Vlaovic non lo farei. E questo è un altro discorso che voglio trattare questa settimana, perché ho già letto qualche commento che va in quella direzione. Ciao ragazzi!